Grazie, nuovo video tutorial, stavolta make up per Capodanno. Ho realizzato un trucco sui toni del blu, lasciando le labbra molto chiare, in modo da tirare la tensione sugli occhi. E niente, spero vi piaccia e vi lascio il tutorial. Dopo aver applicato una base vado a creare un punto luce qui all'angolo interno dell'occhio. Ora vado a prendere questo blu e lo applico nella palpebra mobile. Andando ad allungare leggermente l'occhio. Con questo blu scuro vado a creare una sorta di V all'angolo esterno dell'occhio. Proseguo anche verso la piega dell'occhio. Portando successivamente il colore verso l'interno. In questo modo. Ora prendo un pennello da sfumatura e inizio a sfumare. Bene, ora applico un po' di matita bianca anche sotto l'arcata sopraccigliare. Ora applico anche un po' di bianco shimmer. Ne applico un po' anche all'angolo interno. Nell'arima interna applico la matita bianca della Deborah. Ora applico l'eyeliner sotto l'arima inferiore. Lo applico anche sopra. Ora applico le ciglia finte. Applico il mascara. Ora andrò ad applicare il blush. Io utilizzo questo qui che è della Debbie ed è il numero 01 tonalità pink. Come rossetto applico il color trend di Avon della linea Kiss & Go. E la tonalità è Icehead Champ pink. Lo vado ad applicare prendendolo con un pennello. Infine applico un gloss. Io utilizzo questo qui che è della Essence della linea Sun Club ed è il numero 08 tonalità Sun Glow. A presto. 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 Grazie a tutti.